Quando l'arte rende presente un evento passato e quando la memoria si fissa nella carta o per essere più moderni nei pixel, la fotografia compie il suo dovere. Una foto può raccontare un mondo ma nel caso specifico può ricostruire la storia di una città, San Benedetto, che ha subito delle profonde evoluzioni nel corso dell'ultimo secolo. Giovedì 10 aprile, presso il Circolo dei San Benedettesi, si è svolto il secondo appuntamento in calendario dedicato alla memoria dei luoghi. L'occasione per presentare un documentario fotografico realizzato da Franco Tozzi, già autore di un libro, Come sei cambiata, che ricostruisce l'evoluzione della città mettendo a confronto gli scorci di ieri e quelli di oggi. Un vero e proprio viaggio a ritroso, commentato per l'occasione dal professor Tito Pasquaretti, una rivisitazione della città lungo le tappe storiche della sua crescita e del suo sviluppo che ha impiegato l'autore in una meticolosa opera di ricerca. E allora è facile imbattersi nel nostro viale secondo Moretti di oggi per poi ritrovarlo a fine ottocento con tanto di locomotiva sullo sfondo. Si può fare un giro nella rotonda Giorgini per poi accorgersi che ad inizio novecento lì arrivava la spiaggia con tanto di cabine e gabbiotti. E poi ancora il ponte sull'Albula, oggi ai lati c'è un parcheggio, una volta era crocevia di passanti e di carrozze trainate da cavalli. E infine la spiaggia, altro che club e solarium, la spiaggia era frequentata abitualmente anche da animali, in questo caso delle pecore. Oggi invece il panorama è decisamente mutato.